SEMINTERRATO Si iscriva a quella scuola. Puoi tenerteli. L'iscrizione è gratuita. Cosa fa tuo padre? Mio padre non sta bene. Il mio è in prigione. Il tuo? È morto. State dritti. Perché avete scavalcato il cancello? Se vi farete scoprire, saranno guai seri. Bravo, è colpa tua! Cosa? Ehi, tu. Vieni. Hai un'idea di quello che stai facendo? Non ci sono scuse. Dovreste vergognarvi, lo sapete. Correte! Correte! Sta a passare, va presto! Correte!